I pordenonesi cominciano a riscoprire il proprio patrimonio d'arte. Nel 2017 in 16.000 hanno visitato il Museo Comunale di Palazzo Ricchieri, un dato in netta crescita. Le sale si snodano tra le opere ottocentesche di Michelangelo Grigoletti e alcuni capolavori rinascimentali di Giovanni Antonio De Sacchis, meglio noto come il Pordenone, il più grande pittore friulano d'ogni tempo. E poi gli affreschi trecenteschi del palazzo e le circa cento tavolette illustrate di legno risalenti al XIV-XV secolo, che raccontano storie d'amore e duelli, miti, favole e leggende dell'affascinante immaginario medievale, tra unicorni e draghi, cavalieri e regine. In esposizione anche una sezione di scultura linea dal XII-XV secolo, tra le più significative nel panorama del Friuli Venezia Giulia. Ma Palazzo Ricchieri è anche uno spazio vivo e dinamico, che ospita mostre temporanee e organizza attività per avvicinare il pubblico alla ricchezza artistica cittadina. Oltre alle iniziative didattiche per le scuole, ogni quarta domenica del mese famiglie e bambini possono partecipare a percorsi guidati, con inizio alle 16.30 presso il museo stesso. I percorsi sono articolati in visite di approfondimento alle opere, al costo ridotto di un euro per gli adulti, e laboratori ludici gratuiti per i piccoli. Entrambe le attività sono tenute da storici dell'arte ed educatori. Percorsi e tour guidati sono aperti anche a gruppi organizzati e associazioni. Per le normali visite, il museo è aperto da mercoledì e domenica dalle 15 alle 19.00. Informazioni e contatti sono reperibili online.